Ho visto una cosa successa molto tempo fa, ma non spiega quello che sta accadendo ora. Le risposte che cerchi sono in un'era ancora più distante. Un sorso di pozione e ti saranno chiari all'istante. Sicura di volerlo fare? Oh, spero che ci intrattenga con una bella canzone stavolta. Oh, è tutto così divertente! Che ne dite di fare il gioco a tacca-coda? Il tempo dei giochi è finito per te, Discord. Oh, ne dubito, cara. Posso offrire? Peggio per voi. Oh, cosa avete di bello? Sono gli elementi dell'armonia, grazie ai quali ti annienteremo. Qui è quando tramutarono Discord in pietra. Dovreste vedervi in questo momento. L'espressione sui vostri volti è così intense, così piena di orgoglio. Chiede un vero spasso! Oh, l'albero dell'armonia. Cosa? L'albero dell'armonia? È il mio cutie, Mark! Sicura di quel che fai? Siamo riusciti a scoprire l'unico mezzo con cui possiamo sconfiggere Discord e liberare i cittadini di Equestria. Anche senza questi elementi, l'albero conserverà una potente forza magica. E finché rimarrà quella magia, continuerà a controllare e a contenere tutto ciò che cresce qui. Allora, che hai scoperto? Non so ancora cosa sia accaduto a Princess Luna e a Princess Celestia. Ma ho capito perché l'Ever Free Forest si comporta così. Credo che l'albero dell'armonia sia ammalato. Chi è che sia ammalato, scusa? Parlo dell'albero dove le principesse hanno trovato gli elementi. Temo proprio che sia in pericolo. Ma è d'accordo. Allora andiamo a salvare l'albero. Ma dove si trova di preciso? Ecco, ho paura che sia... Là dentro! Credo che mi servirà dell'altro popcorn. Mi sembra ieri il giorno in cui entravamo in questo bosco per trovare gli elementi dell'armonia. Quando ancora ero così sciocca da pensare di poterli trovare da sola. Non so cosa dovremmo affrontare qui. Ma qualunque cosa sia, so che è necessario affrontarla tutti insieme. Giusto! Saliamo su quelle pietre, forza! Sì! 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 Grazie a tutti.